Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, in questo video Cioè vi faccio Questa intro, diciamo Sì Vabbè, sono senza trucco Cioè ho messo qualcosa Negli occhi, ma Non devo scendere Quindi non Non mi sono truccata Nel frattempo Spunta anche il sole C'è la finestra che ho davanti Negli occhiali, però vabbè, scusate Il riflesso E niente, vi faccio Questa intro perché Vi voglio mettere dei pezzettoni Che ho fatto nel periodo Del matrimonio No, ho fatto Ho fatto solo un pezzettone Dove Vi faccio vedere Che utilizzavo la bomba Della Lidl Quella cosa A sfera Che si mette nell'acqua E si scioglie Vabbè Poi vi faccio tutte le cose Nel video Perché ero molto Molto, molto, molto Nervosa Non riuscivo neanche a fare un video Perché quando provavo a fare un video Ma Quando iniziavo a provare a fare un video C'era sempre qualcosa che non andava O si scaricava il telefono Non mi faceva far girare il video Non mi andava neanche di truccarmi Diciamola tutta E di mettermi davanti al telefono A registrare Anche perché mi impappinavo Mentre parlavo Comunque E' stata molto stressante Quel periodo Questo periodo Quel periodo Sono arrivata al matrimonio E' saurita Infatti Quando veniva la parrucchiera Mi rilassavo Perché mi toccavano i capelli Mi truccava di qua e di là E mi rilassavo Quando mi sono fatta la celetta Mi sono fatta anche la celetta Alle brazze Certo adesso Non c'è più Perché sono giù di petti Non mi faceva male Anche se è stata la prima volta Che mi sono fatta lo strappo Nelle brazze Non sentivo dolore Ero troppo agitata E erano più pensieri Che il dolore Comunque alla fine Mi sono assustata il 24 settembre Qualcuno lo sa Qualcuno no Dico così perché Ho avuto Instagram Poi non ho capito Io pensavo Che non si potevano mandare Su Instagram Messaggi privati Nel senso Io e tu e basta Che non lo vede nessuno Invece sì Non so come Ancora lo dovevo capire Perché mi sono scaricata Instagram Ma non l'ho studiato Diciamola tutta E pensavo che era una cosa Di Cioè mettevo le foto Giocavamo con le foto Nel senso Ci mettevamo i mi piaci Queste cose così Invece no Vabbè Lo dovevo studiare Quindi poi è stato pure Un periodo dove Wi-Fi Facevavo pena Da mia madre Il 3G Mi le ho mangiati tutti Quindi ero un pochettino Anche nervosa Su questo Infatti Non so se sono tanto connessi Dicevano tutta E niente Quindi vabbè Mi metto il pezzettone Dove io 3 giorni prima Mi sembra Mi sono fatto un bel bagno Rilassante E non potevo Non condividerla con voi Se ho girato il video Ho detto No Questa la devo girare Perché era la prima volta Che usavo Questo tipo di Di bomb Di sfera Non so come chiamarla Quindi ho registrato tutto Anche perché Io non ho la vasca C'è la mia mamma Che non la utilizza mai Cioè solo io Mi sono fatta Il bagno In quella vasca Anzi no Il mio padre Quanto si è rotto il braccio Che tenerebbe il braccio fuori Comunque E niente Mi metto quel pezzettone E ci vediamo dopo Qui c'è la mia mamma E ci vediamo Qui c'è la mia mamma Sembra i tessi Eccomi, vi metto qualche foto e qualche pezzettone che mi hanno fatto per il mio matrimonio, così vi faccio vedere non fate caso io mentre che ballo, ma mi sono divertita, io mi ero promessa di divertirmi quel giorno e l'ho fatto. Cioè sono arrivata all'hotel distrutta, stanchissima, il giorno dopo non mi potevo riprendere, però ne basta la pena, mi dovevo divertire dopo tutto il nervoso, tutti i preparativi, tutte cose, quel giorno è stato rilassante, stressante, stancante, però ne basta la pena. Grazie. 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 Salute. Salute. Superman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. in questi pezzettoni di video che ho messo non so se ne metto uno o metto entrambi mi hanno fatto due video quindi un video però mi è piaciuto più questi due video vabbè ok riprenditi comunque avete visto i miei cugini, i zii il mio suoscio, il mio padre ci siamo divertiti tutti è stato un bellissimo matrimonio non detto da me perché naturalmente era mio posso dire tutte le parole di questo mondo che è stato bellissimo ma il parere degli altri conta molto non se ne ha mai dato nessuno stranamente e niente quindi avete visto a me che ballavo madonna e niente questa è la fede la classica fede me la sto già mangiando tra detersivi non ce la toggo mai quindi ci ho messo anche la fedina e l'anello e tutto insieme però non so se vedete non si vedono i grafici che ci sono però vabbè quindi niente vi mando un bellissimo bacio commentate vi raccomando mi raccomando e niente ah sì vi volevo mettere anche qualche pezzettone quando era il mio giudinozze non si vede un gran che però vi faccio vedere tipo il panorama il mare sono stata cioè ho fatto la costa fascinosa bellissimo e vabbè mi metto un pezzettone lì mi sono divertita siamo partiti però di giovedì però è stato comodo perché così sono arrivata a casa mi sono sistemata mi sono infuso le valigie più che altro e ho avuto un po' di tempo il tempo giusto non troppo e non tanto cioè non troppo e non poco vabbè ok va bene ok ragazze vi lascio l'ultimo pezzettone di video no forse lo metto già prima niente ragazze un bacione ciao ciao ciao